Ma ti senti meglio? La cucina! Sì, devo pulire il frigo, è sporco! Lascia fare me, cara, voglio solo aiutarvi nelle faccette. Ma davvero? Ma perché hai tirato fuori la roba dal frigo? Forza, Mary, ho dovuto farlo, andiamo. Perché gli avanzi non sono etichettati? Non so, usa un pennarello o un pastello? Mary, devo dirti una cosetta. Volevo farti una sorpresa, ma... Ehi, dai un'occhiata a queste. Sai che cosa sono? Due chiavi. Di una ciprobarca. Certo, perché hai comprato un'auto? Ne abbiamo già una, non possiamo permettercene un'altra, dai. Sei impazzito? È un'auto blu, come quella di te. Ma non adesso! Mamma, non ha rovinato il giurama che ho fatto per la scuola. Guarda che io l'ho solo migliorato. La pecora l'aveva messa nel posto sbagliato e poi quel vulcano. Ma che mi insegna quel bambino? No, prima l'auto nuova, poi la nostra cucina. Mary, ascolta un secondo. Io non ce la faccio proprio più. Oh, Mary, ti ricorda chi hai detto il tuo cuore. Non smetti, non mi parla. Hai da ridere su tutto. Riporto uno. Oh, è diventato. E sei che ho fatto l'unica, la cosa senza preavviso. È solo fatto disastri. Aspetta tua madre, Mary! Ora fermati, fermati un secondo, Mary! E hai rotto solo disastri, sei arrivato, Mary! Non sei ben curioso! E hai rotto il progetto di Clarence! Ti scolta la cucina! Mi hai fatto a farlo al limite! Brides, che stai facendo a casa di Mary? Mi sembrava che avessimo deciso per una visitina veloce. Magari una cena tutti insieme in famiglia. E poi non ti trovo più perché ti sei ghezzata qui per due giorni. Mi sono svegliato per il shake out e le tue valizie erano scomparse. Ma lo sai, pure grazie al cielo, sei qui! Ehi, ciao papà! Ciao tesoro! Brides! Che veloce, arrivederci, vi adoro! Quello era bene? Cavolo, è diventato un bambino rosso!